Bene, adesso cambiamo tutto il genere, cambiamo sinfonia, cambiamo musica, come si può dire. Adesso andiamo un po' nella zona della Spagna, andiamo un po' in questi paesi di origine spagnoli, in cui lo strumento principale che viene adoperato per i vari brani, per le varie situazioni, è la tromba. Il brano che vi faremo ascoltare adesso è un brano proprio tipico spagnolo, con un bel assolo di tromba, del nostro trombettista, che ora avete modo anche di gustare musicalmente. A voi il prossimo brano si chiama Agapulco. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.